ciao e ben ritrovati dal mago vi presento una piccola iniziativa che abbiamo pensato del delo la prima persona che dopo la pubblicazione di questo video si iscriverà al canale ed è residente a fidenza o entro 10 chilometri riceverà 10 lattine di fanta che verranno personalmente consegnate a casa per sfruttare questa possibilità dovete mandare una mail alla mail appunto del canale che trovate nelle informazioni che comunque è pcmaster73 at gmail.com indicando il vostro nome e cognome e un contatto almeno una mail o il numero di telefono cellulare in modo da prendere accordi è un piccolo pensiero che vogliamo fare per il raggiungimento dei 350 iscritti se non siete della nostra zona ma conoscete qualche amico che abite vicinissimo fidenza avvisatelo fatelo iscrivere perché comunque è gratis perciò fate in fretta se volete che le datine siano vostre e non vadano qualcun altro che si iscrive tre secondi prima di voi a presto sul canale